Benvenuti o bentornati amici in un video del Centro Studi e Ricerche CTA 102. Oggi continuiamo a occuparci del caso Emanuela Orlandi, ma prima di incominciare, se vi piacciono le nostre attività e volete aiutarci a crescere e migliorare, iscrivetevi, condividete e se volete offrirci un caffè, per noi è un gesto molto gradito e importante. Dunque, tornando a occuparci del caso Emanuela Orlandi, torniamo a occuparci in particolare di una delle ultime piste d'indagini emerse. Infatti, come avviene spesso per casi molto ambigui e complessi, anche per il caso Orlandi esistono più piste d'indagine che portano in direzioni molto diverse. Fra queste ne esiste una specifica che è nota come pista inglese. Il fondamento di questa pista vedrebbe Emanuela condotta dopo il suo rapimento all'estero e in particolare a Londra, dove avrebbe trascorso diversi anni della sua vita fino alla morte. Ma come nasce questa pista e quali sono le prove di cui si sostanzia per avvalorare l'idea di una lunga presenza di Emanuela a Londra? Bene, la pista inglese nasce dal riperimento di due scritti. Il primo è rappresentato da un carteggio intercorso nel 1993 fra il Cardinal Poletti e lo stesso Arcivescovo di Canterbury. E' proprio l'Arcivescovo londinese a inviare questa lettera al Cardinal Poletti, ma tramite un indirizzo di Londra, Chapan Road. Nella lettera si legge Cara Eminenza, sapendo che sarà per qualche giorno qui a Londra, mi sento in dovere di invitarla a farmi visita nei prossimi giorni per discutere personalmente la situazione di Emanuela Orlandi, di cui sono a conoscenza. Dopo anni di corrispondenza, penso sia giusto discutere di una situazione di tale importanza personalmente. Mi faccia sapere se può servirle un traduttore personale o se nel caso lo porterà con lei, attendo la sua risposta nei prossimi giorni. L'altro documento, che costituisce la pista inglese, potrebbe invece far parte del bottino del misterioso e famoso furto che era avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 marzo 2014 nella Prefettura degli Affari Economici e consiste in cinque fogli, tutte risalenti al 1998, nei quali sono elencate varie spese, tutte riconducibili al vitto e all'alloggio di Emanuela Orlandi presso una struttura indicata come presente in Chapan Road. L'enorme armadio blindato che i ladri avrebbero aperto nel famoso marzo del 2014 conteneva naturalmente molti altri documenti, migliaia di documenti come le lettere di Michele Sindona ad esempio. Quindi se questo rendiconto fosse vero indicherebbe l'esistenza di un dossier tuttora segreto sulla Orlandi depositato presso la Segreteria di Stato del Vaticano. Questi conti si accompagnano a un'altra lettera datata appunto al marzo 1998 e inviata dal Cardinal Lorenzo Antonetti che al tempo presiedeva l'amministrazione del patrimonio della sede apostolica indirizzata a Giovanni Battista Re che all'epoca era il sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato e a Jean-Louis Turan. Vi si legge Reso conto sommario delle spese sostenute dallo Stato-Città del Vaticano per le attività relative alla cittadina Emanuela Orlandi. Si tratterebbe delle spese fatte dal Vaticano per il mantenimento della ragazza a Londra per un periodo che andrebbe dal 1983 fino al 1997. Queste spese, questo resoconto sarebbe stato presentato nel 1998 dall'allora presidente dell'Apsa appunto il Cardinal Lorenzo Antonetti. Il resoconto è pari a 483 milioni di lire e come abbiamo visto copre un arco temporale molto lungo. L'analisi pone in luce fatti piuttosto rilevanti e con le relative spese. Si parla ad esempio di 400 mila lire di compenso per una fonte investigativa riguardo l'atelier di moda delle sorelle Fontana. Sono citate le ancelle dell'Immacolata della città di Parma e infine vanno rilevate per l'appunto le spese per il vitto e l'alloggio londinese. Si parla di una rata onnicomprensiva di 100 milioni di lire per 5 anni per la clinica St. Mary's Hospital Campus Imperial College di Londra insieme alle spese per una ginecologa tale Leslie Reagan. Il rendiconto si chiude con un terribile disbrigo di pratiche finali. I fogli contengono diverse ambiguità e infatti è obiettivamente sufficiente conoscere alcune procedure di base proprio della burocrazia vaticana per dubitare che il cardinale Antonetti avrebbe scritto ad esempio sua riverita eccellenza al posto di sua eccellenza reverendissima. Anche i fogli che si riferiscono alla lettera dell'arcivescovo di Canterbury pongono dei problemi. Innanzitutto la carta non è intestata e non è timbrata. La lettera poi, ovviamente scritta in inglese, contiene diversi errori di sintassi e di grammatica che non sono in alcun modo rapportabili alla figura che questa lettera l'avrebbe scritta. Ultima ambiguità, ma non certo ultima per importanza, nella citata Chapman Road non esiste nulla, cioè non esiste nessuna struttura che possa avere effettivamente ospitato Emanuele Orlandi. Ne esiste però una al numero 170 di Clafam Road. Quindi siamo in presenza probabilmente di un errore di scrittura. La citata struttura di Clafam Road è un ostello gestito da una comunità cattolica, i padri scalabrignani. Ora, nonostante queste criticità, il fratello di Emanuela Pietro si dice abbastanza sicuro di un periodo di vita londinese della sorella Emanuela, periodo che si sarebbe concluso nel 1997 e dichiara tal proposito. Sono entrato in possesso di documenti in cui ci sono riscontri che mi dicono che quanto c'è scritto in quei fogli è vero. Ci sono delle relazioni tra personaggi di alto livello del Vaticano e istituzioni inglesi. Ci sono delle cose che mi fanno protendere con alta percentuale a credere che Emanuela sia stata portata a Londra. Ma dunque davvero Emanuela Orlandi è stata ospitata a Londra con la complicità dei padri scalabrignani? Beh, le indicazioni portano appunto a questa palazzina vittoriana in tinta crema e Magliano Fittipaldi, il noto giornalista, si è recato di persone in questo luogo cercando proprio informazioni su Emanuela senza però ottenere nulla di interessante a riguardo cosa che egli stesso ha però giustificato così. È chiaro che se ci fosse stata avrebbero utilizzato un altro nome e probabilmente non sarebbe stata scritta sul registro. In ogni caso che simili documenti siano meno originali rimane il dato della profonda inquietudine infatti se anche fossero falsi chi li avrebbe falsificati? Perché ad esempio lo stesso Monsignor Abbondi aveva definito alcune di queste famose carte rubate documenti molto sgradevoli per il loro contenuto alla città del Vaticano e poi l'esborso per Emanuela è importante perché? Perché a questo punto il Vaticano avrebbe tenuto in vita Emanuela? Non si tratta di interrogativi da poco naturalmente non siamo qua per fornire una risposta ma solamente per aggiornarci sugli ultimi sviluppi del caso che riguarda Emanuela Orlandi. Se vi piacciono le nostre attività e volete scoprire di più su questo caso specifico potete trovare gli altri video nella playlist di True Crime. Grazie per essere rimasti con noi e alla prossima. Ciao!